ecco la luna tornata a casa ritrova zia patti che come al solido ci dà il buongiorno e se la coccola buongiorno è tornata la mia bambina bella fatti vedere ciao ciao chi è questa è la mia bambina erano un po di giorni che non la vedevamo per fortuna è arrivata in soccorso sia patti che c'è la mostra in tutto il suo splendore